E' giovedì 19 novembre 2015, telespettatori di Video 33, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. In primo piano la sanità locale si aprono spirali sul fronte della permanenza in attività dei punti nascita di Silandro e Vipiteno, che si temeva facessero l'analogo fine di quello di San Candido chiuso nel marzo scorso. Nulla di certo, ma le intenzioni manifestate per ora in modo informale dal ministro alla salute Beatrice Lorenzini inducono all'ottimismo per quanto riguarda i punti nascita di Silandro e Vipiteno, la cui chiusura appariva sicura a fronte della soglia minima di 500 parti l'anno prevista da Roma per tutti i nosocomi del paese. Per ora dalla capitale arrivano solo indiscrezioni, ma a Palazzo Widman e dintorni sono convinti che la richiesta di deroga sia una strada percorribile. Questa lettera dice nient'altro che se è previsto un percorso per fare la domanda al Comitato Nazionale, se ci potrebbe eventualmente anche prescindere dal numero di 500, però non dice niente sugli standard e per quello io per dire la verità non posso dire, questa è una lettera che dice che noi possiamo fare la domanda. Il vero problema, assicura l'assessore Stoccher, non è tanto il numero minimo di parti quanto invece l'obbligo della presenza di almeno 4 specialisti per punto nascita. Una cosa è l'oneroso, l'altro è trovare tutte queste qualifiche, queste persone specializzate, quello è il problema più grande che abbiamo. Comunque sui standard non ho letto niente. Ora dunque verranno avviate trattative con Roma, magari su basi più solide. È molto probabile comunque che la previsione fatta dal direttore generale dell'azienda sanitaria Thomas Schell, ovvero che i punti nascita di Silandro e Vipiteno debbano chiudere dal primo gennaio prossimo, non si avveri. Io su questo non entro io, adesso vedo quello che è da fare per fare questa domanda e poi vedremo. Intanto però scatta un altro campanello d'allarme. Dal 25 novembre, in base a una direttiva dell'Unione Europea, il personale sanitario non potrà più derogare all'obbligo di riposarsi per 11 ore consecutive ogni 24 ore. Una norma che, se applicata alla lettera, metterebbe a serio rischio l'attività dei servizi di pronto soccorso, specie negli ospedali periferici dell'Alto Adige. Passiamo alla cronaca giudiziaria. La cronaca giudiziaria Gottlieb e Daniel Tashler, rispettivamente padre e figlio di Anter Selva ed il medico di Ferrara, Michele Ferrari, sono stati rinviati a giudizio per violazione a vario titolo della legge sul doping. Il gruppo di Bolzano Walter Pelino ha raccolto la richiesta di rinvio a giudizio del PM Giancarlo Bramante, che ha ritenuto i tre colpevoli di aver utilizzato in questo caso il biatleta Daniel Tashler e favorito l'assunzione Gottlieb Tashler ed il medico Ferrari di sostanze dopanti. Il giudice Pelino ha inoltre accolto la richiesta di costituzione di parte civile della VADA, l'organismo internazionale di vigilanza sul doping. La prima udienza del processo è fissata per il 20 aprile 2016. Verrà impugnata in Cassazione a Roma da parte della Procura Generale la sentenza assolutoria emessa nei confronti dell'ex direttore generale di SEL, Maximilian Reiner, dalla Corte d'Appello di Bolzano, che di fatto ha cancellato la condanna in primo grado due anni e mezzo di reclusione in relazione alla vicenda Steinenstein e all'acquisizione della centrale elettrica di Mezzaselva. I giudici d'Appello, nelle loro motivazioni, hanno di fatto accolto in gran parte le argomentazioni dell'avvocato difensore di Reiner, il legale Carlo Bertacchi, ritenendo che non vi sia stato alcun danno economico per SEL, in sostanza Maximilian Reiner non avrebbe in alcun modo né attivamente né come conseguenza di un comportamento omissivo ingannato il CDA di SEL nell'argomentare contro l'acquisto della centrale di Mezzaselva. Cambiamo decisamente argomento a Bolzano, ha aperto i battenti stamani la 68esima edizione della fiera d'autunno, la madre di tutte le fiere regionali, che anche quest'anno conferma l'abbinamento con Biolife e NutriSan, tante le iniziative in programma, comprese quelle riservate ai più piccoli. È la madre di tutte le fiere regionali. L'edizione 2015 della fiera d'autunno è infatti la numero 68. Cinque i settori espositivi, home ed il bau, mobile e tecnologie per la casa, lifestyle con prodotti per la cura del corpo e della mente, artigianato artistico e prodotti tipici contadini, bazar con articoli da regalo e prodotti vari e saporita con le specialità enogastronomiche. L'ultima edizione dell'ex campionaria ha contato 275 espositori per un totale di 18.000 metri quadrati lordi affittati e 50.000 visitatori, il 65% dei quali ha effettuato ordini. Numeri che nel corso dell'inaugurazione di stamani il presidente di fiera Bolzano, Armin Ilpold, intende quantomeno confermare. Io mi auguro che arrivano anche tante famiglie perché è una fiera classica dove anche le famiglie trovano una vasta offerta di prodotti, di servizi, quindi mi auguro che arriveranno di nuovo 50.000 in fiera. E tra il di tutto o di più non poteva mancare l'abbinamento con Biolife e Nutrisan, le fiere specializzate rispettivamente con l'eccellenza regionale biologica rivolta al pubblico in cerca della qualità garantita e il Salone delle intolleranze alimentari e della corretta alimentazione con tanto di convegno scientifico sul tema. E a proposito di temi, quello portante di questa edizione di fiera d'autunno è il Tracht, l'abito tradizionale subtirolese di cui un gruppo di lavoro è presente per spiegare tutta la sua storia e le sue particolarità. Più o meno sono tutti artigiani che lo fanno anche tanto per Robby perché piace fare il costumente tirolese. Quindi non c'è da meravigliarsi, insomma, dei costi non certo bassi di questo abito? Sì, le cose sono un po' elevate perché siccome mette un sacco di ore di mano d'opera. E tra i tanti motivi di interesse in fiera non mancano quelli per i più piccoli, a partire dal Baby Parking, uno spazio ludico riservato ai bambini tra i 3 e i 6 anni con la supervisione di personale qualificato. Confermato anche l'astro villaggio di San Valentino in campo con un osservatorio astronomico in miniatura e due specialisti pronti a rispondere a tutte le domande sul tema. Noi diamo un'occhiata al cielo notturno sopra l'Alto Adige, sopra Bolzano, guardiamo le costellazioni dello Zodiaco, i pianeti, la stella polare, il piccolo e il grande carro e insegniamo un po' agli ospiti, a tutti gli ospiti a orientarsi con il cielo sopra le loro teste. Fiera d'autunno è aperta fino a domenica 22 novembre tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30. Giovedì e venerdì l'ingresso è gratuito per tutti. Sabato e domenica biglietto a 4 euro, 3 euro per l'acquisto online e 8 euro il Family Ticket. Proseguiamo con la cronaca nera dopo l'Aives e Bronzolo serie di furti in appartamento anche a Bolzano ad essere prese di mira nei giorni scorsi alcune abitazioni in Viale Venezia, via Zara, via Gaismaier e via Sanquirino. Si tratterebbe di ladri oltre che esperti particolarmente atletici visto che per introdursi in una casa si sono addirittura rampicati al terzo piano sfruttando alcuni cornicioni e traversine ad essere portati via gioielli e denaro, indagano le forze dell'ordine. Ricorre domani la giornata internazionale dei diritti dei bambini. Il più importante di tutti è forse quello di crescere ed essere educato in ambito familiare e da questo punto di vista l'adozione è uno strumento fondamentale. Oggi a Bolzano si è tenuto un convegno centrato proprio sulle storie adottive. Il modo migliore per sensibilizzare tutti sul tema dell'adozione è parlare con un genitore adottivo. Ci sono stati momenti così belli che hanno sicuramente forse anche un po' livellato i momenti un po' più di difficoltà. All'inizio ti fai qualche pensiero, cerchi di capire come certe situazioni potrebbero crearsi. Alla fine la realtà sarà completamente diversa e devi cavartela nel miglior modo possibile. Mattias Berlinger e Alessandra Martinez e i rispettivi coniugi hanno storie diverse o forse molto simili. Sono genitori di due bimbe, etiopi di due anni e mezzo e otto anni, Calchidan e Margherita. Oggi hanno preso parte a Palazzo Wittman di Bolzano a un convegno incentrato sul tema dei legami familiari in una famiglia adottiva. E l'assenza di un legame di sangue ovviamente può essere penalizzante in questa prospettiva. Forse il legame tra figlio e mamma è più forte sicuramente dall'inizio se sono genitori biologici. Nei genitori adottivi forse possiamo dire che è uguale perché il legame si deve instaurare con tutte le due parti nello stesso modo. L'anno scorso in Alto Adige si sono registrate 25 adozioni internazionali, poche ancora perché il mondo è pieno di bimbi che avrebbero bisogno di una famiglia. Per questo la provincia ha avviato una campagna di sensibilizzazione con lo slogan una storia diversa, la mia adozione. Per fare in modo che più coppie, che abbiano figli o no, facciano questo grande atto di generosità nonostante un iter burocratico piuttosto complesso. È chiaro che non mi sento di dire che è bello aspettare quattro anni per esempio, però i due anni che abbiamo aspettato noi sono stati comunque molto utili e usandoli nella maniera opportuna sono stati ben spesi sicuramente. Gli occhi di questi due genitori adottivi dicono molto più di qualsiasi slogan. Sono felici e nulla li preoccupa neanche il dover spiegare o l'aver dovuto spiegare ai propri figli la loro storia. Alla fine a lei voleva solo la verità, voleva che noi... se lo ricorda a cinque anni quindi sa benissimo che non è nata da me e il colore della pelle anche lo dimostra, quindi non è una cosa difficile però chiaramente lei aveva bisogno di sapere da noi che c'era quella cosa ed era una cosa normale, tranquilla. E per essere ulteriormente convincenti... La cosa che forse nella mia vita e anche quella di mio marito ha dato di più in assoluto. È scattato il conto alla rovescia per la seconda edizione dell'iniziativa Acquista e Vinci promossa dall'Unione Commercio, Turismo e Servizi di Laives in collaborazione con il Comune e la Provincia e la Cassa Raiffeisen della Bassa Atesina. Con un nuovo nome, stavolta si chiama Acquista e Vinci e non più Gratta e Vinci torna per il secondo anno l'iniziativa natalizia promossa dall'Unione Commercio, Turismo e Servizi a Laives San Giacomo e Pineta presentata ufficialmente alla presenza del primo cittadino di Laives Cristian Bianchi, dell'assessora alle attività economiche Claudia Furlani e dai vertici locali dell'Unione. In sostanza si tratta di una sorta di lotteria con un monte premi di oltre 10.000 euro. Buoni della lotteria, non come l'anno scorso Gratta e Vinci. E' proprio i biglietti della lotteria e ogni commerciante dà questo biglietto, chi 10 euro, chi 20 euro, dopo l'acquisto di 10 euro, 20 euro e c'è l'estrazione praticamente tutte le settimane. Alla fine c'è l'estrazione finale che sarà molto consistente. Premi in paglio, li possiamo accennare, possiamo anticipare? Buon acquisto, quello sicuramente. E poi alla fine c'è il buono di 1.000 euro, 800 euro, 300 euro e poi un computer. Iniziativa, come ha sottolineato il responsabile dell'Unione Commercio di Bolzano e Laives, Peter Perez, è finalizzata in primis a contrastare il difficile momento congiunturale. E devo dire che le attività hanno risposto molto bene perché abbiamo 47 attività, quindi più quelle che hanno inserito, siamo oltre 50, quasi 60 attività che partecipano e quindi direi sicuramente un successo anche dovuto al fatto che quest'anno, una seconda edizione, abbiamo cercato di snellire un attimino l'iniziativa. E a sottolineare l'importanza dell'iniziativa, anche Franz Josef Mayrofer della Cassa Raiffeisen. Noi come Cassa Rurale, come banca locale, riteniamo molto importanti iniziative di questo genere. Non a caso abbiamo anche implementato una cooperazione con l'Unione dei Commercianti perché si combina perfettamente con la nostra filosofia, con la nostra mission che è quella di supportare i circuiti economici a livello locale. L'estrazione finale è in programma domenica 20 dicembre 2015 alle ore 18 presso il Mercatino di Natale nel piazzale d'innanzi il comune di Laives. Si aprirà il 20 novembre prossimo la stagione teatrale del Mascherone che dopo 17 anni tornerà ad essere ospitata dal Teatro Comunale di Gries a Bolzano. Sono passati 17 anni da quando proprio sul palco del Teatro Comunale di Gries a Bolzano inizia l'avventura del Mascherone, festival nazionale curato dalla Compagnia Luci della Ribalta che quest'anno si ripropone grazie alla collaborazione e al sostegno di provincia, comune, Wilte e fondazione Cassa di Risparmio. Il sipario sulla stagione si aprirà domenica 29 novembre con lo spettacolo Cose dell'altro mondo di Jean-Noël Fenwick nella versione proposta da Luci della Ribalta. Fino alla metà del prossimo mese di aprile il cartellone prevede cinque commedie e un musical con compagnie provenienti anche da altre regioni italiane, tutte e tutti a celebrare l'atteso ed emozionante ritorno della rassegna sul palco del Teatro di Galleria Telser. È molto emozionante perché riteniamo che questo sia un ambiente per noi che ci accompagna da quando siamo nati come associazione nel 95, è una bomboniera, è un ambiente familiare, è un ambiente diretto, contatto con il pubblico perché la struttura stessa ci permette un contatto molto più intimo con lo spettatore e la platea. La stagione del Mascherone servirà anche in qualche modo a testare i cambiamenti intervenuti nel mondo del teatro amatoriale. Sicuramente si è perfezionato, ci sono compagnie amatoriali molto preparate, molto professionali perché anche nel loro ambito comunque seguono sempre corsi di formazione e situazioni dove possono comunque aumentare le loro capacità e i loro metodi. È tutto per la cronaca, ora un breve stacco pubblicitario, poi torneremo in studio per parlare di sport. Lo sport viene presentato da Rent & Go, i professionisti nel nolleggio di sci e snowballs. Rent & Go vi presenta il nuovissimo scarpone che riscalda fino a 16 ore, mai più piedi freddi. Rent & Go, perché nolleggiare? È meglio che comprare. 33 points in Alto Adige. Ieri sera al druso alla squadra di Luca Lomi è bastato il gol di speziale, segnato al 53esimo minuto, per avere ragione del Naturno nel match che vedeva di fronte le attuali due battistrada dell'eccellenza. I Venostani, che sono riusciti a limitare il passivo grazie alle strepitose parate del giovane Piazzo, hanno concluso la partita in nove a causa delle espulsioni di Offer e Tribus. Una cinquantina di piloti ha partecipato alla prima edizione della Hike Flights di Flalzes, un mix di marcia in montagna e volo col parapendio con vista a mozzafiato su tutta la Val Pusteria, che ha pienamente soddisfatto i concorrenti. Oltre un'ora a piedi in salita con lo zaino in spalla, un lancio nel vuoto col parapendio e il tratto fino al traguardo ancora a piedi. Tutto questo è l'Hike and Fly della Val Pusteria, una gara atipica di volo a vela a coppie che si è disputata per la prima volta sui monti della Val Pusteria, sopra Falzes. Si trattava di raggiungere la zona denominata Kofleram Kofler a quota 2000 metri, da dove, una volta predisposti per il volo di ritorno, ci si lanciava nel vuoto potendo godere della splendida vista dall'alto di tutta la vallata. Una volta atterrati a quota 1450 metri e riposta la vela nello zaino, i partecipanti restava un ultimo tratto a piedi fino al traguardo. Quella che si è disputata sabato a Falzes è stata una versione riveduta dell'Hike and Fly tradizionale. Puoi fare due cose, puoi andare a piedi su sulla montagna e poi con la vela puoi atterrare, diciamo così, allora non devi fare questi lunghi paesacci per scendere così, allora con questo lì possiamo atterrare dove vogliamo e quando vogliamo. Ad aggiudicarsi la gara il team denominato Der Harten-Hartenhunde, grosso modo cani duri, con il tempo di 2 ore e 47 minuti e 28 secondi. Solo quinti i favoriti della vigilia, il duo Terna-Jöckl. Ma la classifica interessava poco e in una manifestazione come questa dove a contare di più era il poter condividere con altri appassionati le magnifiche sensazioni che dà questo sport, naturalmente con le dovute sicurezze. L'unica cosa che devi avere è la vela e poi il patentino, l'assicurazione, poi il casco e la seconda vela per quelle cose lì, diciamo come un patentino, diciamo così. Una cinquantina in totale i piloti che nonostante le condizioni poco favorevoli di vento hanno partecipato alla I can fly di Falzes portando a termine le rispettive prestazioni. Passiamo all'hockey su ghiaccio di scena questa sera. La diciassettesima giornata di Serie A, il FASA ospiterà il fanalino di Coda Cortina mentre il Gherdeina è atteso a Vipiteno. Nel posticipo di domani la capolista Renon sfiderà la seconda della classe Valpusteria. Ricordiamo che nell'anticipo di martedì scorso l'Asiago ha battuto il Valpellice per 5-1. Ed ora con il supporto della regia andiamo a vedere assieme le previsioni del tempo. Un campo di alta pressione insiste, le correnti in quota da occidente porteranno masse d'aria mite. Tempo in prevalenza soleggiato in giornata al più, in cielo transiterà qualche velatura. Per venerdì il tempo sarà inizialmente abbastanza soleggiato. Durante la giornata tuttavia le nubi tenderanno ad aumentare da nord con possibili precipitazioni che in serata tenderanno ad interessare settori anche più a meridione. Sabato un fronte freddo da nord attraverserà le Alpi causando un netto calo delle temperature e qualche precipitazione. Limite della neve in calo fino ai mille metri circa. Contemporaneamente inizierà a soffiare vento freddo da nord con delle schiarite. Domenica il tempo dovrebbe essere abbastanza buono ma il clima sarà ventoso e freddo. L'unidì e martedì prevarrà il sole ma le temperature resteranno invernali. Siamo in chiusura, siamo e saluti. Giusto al tempo di ricordarvi come sempre il nostro sito web www.video33.it Inoltre vi ricordo la terza Rosengarten Hockey Night trasmissione in cui vi proporremo in diretta la partita tra Ljubljana e Hockey Club Bolzano venerdì a partire dalle ore 19. È veramente tutto, vi ringrazio della cortesa attenzione, vi auguro un buon proseguimento di giornata. L'abbigliamento di video 33 è fornito da Boutique Newtime a Bolzano, Galleria Greif. Grazie a tutti.